Con la scritta sopra, portando in piazza, serve come stimolo e ognuno deve tirare fuori per un dialogo, una cosa che può trovare in futuro. Cosa lascerebbe alle generazioni l'oggi e anche nelle future? C'è caldo invisibile, in ogni cosa, perché siamo tutte quante molecole vibrate, dentro altro, ognuno modo su uno. Grazie per la visione!